André, ci mangiamo stasera? Stasera tocco di carne Ma quelle sono due fettine congelate, gira Non riusciamo a attaccarle Facciamo ora, facciamo così Ascoltiamo la parte cotta E poi la mangiamo, no? Questa dietro è cruda E' un po' di punta La prima modalità per buccia Io ne mi utilizzi macellaio Quindi il mio DNA ci sarà qua E lì già sta fatti, vedi? Ma perché devi tagliarlo? Lascialo perdere Voi lo scolla da solo Vedi, 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 vedi Vedi, vedi, vedi Vedi, questo è fatto Vedi, vedi, vedi Vedi, vedi La vita cotta, ce la mangiamo E' un aceto, scusami, mi favo dire. Perché no? Intanto scusa eh. Eh, è l'aceto. Prima che ho scotto questa parte, non mi mangio tutto. Tutto morto e scotta. E' un aceto, Saba. Poi, come si stacca e lo buttavo dentro. Tipo per il pollo a schienetti, no? Dai, ora fallo fuori, Giulio. Si, però non sa capisco, fai, io taglio e te mangio. Siamo. No, se riesco. Non si capisce manco, aggiungisci una, che incigna Laura. E' tutta una. No, non è. Va bene, così, così. Va bene. Siamo ancora al giorno 1. Sì. 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 Ma se non ci mangiavano le nostre peste merda, sicuramente. Sì. 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 Sì.